Ciao ragazzi, allora, sono le 8 e 21 di venerdì mattina del 30, ok? Questo capitolo, so che qualcuno di voi sarà confuso, non doveva uscire oggi, doveva uscire il 6. Però, non solo è stato trapelato, ma l'hanno anche tradotto in inglese in tutti i siti. Ho visto anche dei miei colleghi che stanno iniziando a organizzare la reaction proprio per questo giorno, per venerdì. Quindi, secondo me, ci stava alla fine registrare l'analisi il 30 e fare anche la reaction che oggi che è il 30, ma uscirà il giorno dopo. Quindi uscirà il 31, l'ultimo dell'anno. Doveva uscire un video bello sul 2023, no, scusami, sul 2022, ok? Ma uscirà come primo video dell'anno, dell'anno prossimo, molto probabilmente, ok? Quindi, non importa, lo recupereremo. Questo capitolo qui, sto vedendo già la prima pagina. E devo dire che molti di voi mi hanno scritto dicendomi che è bello, mi avete messo molto hype. Ho visto il gruppo Telegram un po' esplodere, di più rispetto al capitolo scorso. Ai capitoli scorsi, vorrei dire. Quindi, secondo me, ci sta parlarne. E parlarne subito come ultimo capitolo dell'anno. Allora, metto subito la reaction, così. Eccoci qua. Allora, l'offensiva di un eroe, Kuma, che arriva. Redport, la base della redline. Ah, ok. Quindi non è andato a... Direttamente a Egg. Vabbè, forse si dirigeva a Egg, ma si è dovuto fermare perché c'era la redline in mezzo, non lo so. E Bartolomeo Kuma. Come è arrivato qui? Da dove è arrivato? Ho sentito che ha sorvolato la terra sacra. Che cosa ci fa qui? Lui dovrebbe essere lo schiavo invincibile di un drago celeste. Sezione del nord-est, del distretto nord-est. Oddio, si è mosso. Un ex membro della flotta dei sette, Bartolomeo Kuma, è appena apparso al Bondola Gate. Mandate tutti i marines disponibili nella sua posizione. I civili devono essere avvisati che è estremamente pericoloso e dovete evacuare immediatamente. È un uomo con niente di umano. Potrebbe servire ancora i draghi celesti, ma il suo obiettivo corrente è sconosciuto. Quindi non approcciatelo. Ok, è apposto così. E si vede Kuma che guarda questo muro del governo mondiale. Allora, perché si è diretto lì? Allora, ho due cose. O si è diretto qua perché effettivamente doveva dirigersi qua. Ok, quindi era la sua prima intenzione. Oppure, come ho detto, dato che comunque Kamabaka è lontana, come abbiamo detto anche più volte, mentre si dirigeva col suo potere, che comunque non è un teletrasporto, in molti me l'avete ricordato, ma è un potere che ti fa volare, ti fa volare a massima velocità verso una certa posizione, si è dovuto schiantare per forza contro la Red Line e quindi ora il suo potere si è, tra virgolette, annullato. Proprio perché comunque Kamabaka, se non erro, è nel paradiso, quindi nella prima parte della Grand Line, mentre, ovviamente, Egghead si trova nel nuovo mondo. Comunque, torniamo a Egghead. Chiudete ogni accesso possibile e ogni possibile scappatoia per Vegapunk. Distruggete le navi se è necessario. Anche con i serafini sotto il nostro controllo, come riusciremo a farli uscire? Questo Frontier Dom è veramente una figata e anche Kakù dice che è una figata. Sei determinato a ignorare la Marina, non è vero, Lucci? Io rifiuto di accettare il cappello di Paia come un imperatore. Ok, va bene, ci sta. Non credo, non credo, vedremo un altro scontro contro Lucci, vi dico la verità. Lo scontro si è già consumato per quanto mi riguarda. Gli agenti stanno provando a bloccare tutte le uscite. Probabilmente avranno, si saranno anche occupati delle nave, quindi Vegaforce 01 può volare sull'isola. Perfetto, quindi questo vuol dire che possiamo vendicare Atlas, ok? Vabbè, Lilith, oh, voglio vedere un po' di più di Lilith, secondo me è più importante di quanto pensiamo come personaggio. Quindi non ce ne andremo senza un combattimento. Ah, ok, quindi praticamente anche i satelliti si rendono conto che la loro priorità è far andare via la stella, quindi il corpo principale. I'm so sorry, sento ma... Quindi qua c'è Vegaforce si dispiace per sento Maru. Questo è che è successo solo perché eri molto fedele. Abbiamo ancora un altro alleato sull'isola. Possiamo chiamarlo? Non rischieremo anche loro se chiediamo aiuto. Hanno avuto, non hanno niente, non hanno nessun posto in cui nascondersi. Anche loro sono sotto i riflettori, diciamo così, sotto l'obiettivo del governo. Ok, per favore salvatemi. Ok, ovviamente sono sempre stato preparato per quest'ordine. Quindi stanno arrivando ad aiutarci. Ma di chi sta parlando? Di chi sta parlando? Quindi scappare sarà facile come una torta adesso, ok? Ok, ci porterò tutti al porto con Vegaforce 01. Bene ragazzi, sono tutto pronto. Quindi per favore prendete voi sette. Anzi no, prendete noi sette sulla vostra nave. Quindi tutti e sette vanno sulla nave, almeno. Ci proveranno. Secondo me no, secondo me qualche corpo di Vegapunk muore. Vi dico la verità. Poi tra l'altro, chi è quest'alleato? Chi è quest'alleato? Qua si vede niente. Nel lumacofono non si vede niente. Io ho una teoria, ma la dirò nel commento del capitolo, che in realtà avrete già visto. Quindi posso anche dirvela. Potrebbero essere degli esperimenti riusciti, stavolta dei giganti antichi. Dei antichi giganti. Potrebbero essere. Quindi non lo so. Ah, qua c'è, vabbè, c'è Bonnie che insegue Vegapunk, ovviamente. E suona un allarme, che sente solo l'ufia, a quanto pare. Le difese del Labor Stratum Frontier Sonora Offline. Ok. Quindi tutto questo è offline? Oppure no? La frontiera del DOM. Quindi forse la parte sotto è offline. Chi è che avrebbe disabilitato e per quale scopo? Qualcuno potrebbe essere nella control room. No, i nostri detector non stanno individuando nessuno. Questo è stato immediato. Questa potrebbe essere la nostra occasione d'oro. Aspetta, potrebbe essere una trappola. Questo malfunzionamento non suona un po' troppo conveniente. Cioè, quindi chi è che ha disattivato... Ah no, hanno disattivato le barriere del DOM, quindi della cupola, della parte sopra. Ma chi è che è stato? Non si vede qua. Non sono stati Bonni e Luffy perché loro stanno semplicemente correndo. Quindi potrebbe essere stato Caribù? Caribù potrebbe essere stato... Non lo so. Non lo so. Vabbè, vediamo che la CP0 comunque vola, tra virgolette, grazie allo Skywalk. Abbiamo avuto... Siamo riusciti ad arrivare. Il Paradiso ti ha abbandonato Vegapunk. Ah, riconoscono la Sunny. Eh, ok. Quindi adesso potremmo... Infatti, qua già vedo delle robe. Abbiamo... Ci siamo già presi cura di tutte le navi lì sotto. Ora dobbiamo solo distruggere questa qua. Leave it to me. Lasciatela a me. Kaku. Tempest Kick. Sky Slicer. È qua, ragazzi. È qua. È qua c'è Zoro, eh. Perché comunque... Ci sta. Mi piace. Mi piace questa cosa. E la blocca con una facilità. Chi diavolo ha interrotto il mio riposo? E c'è Kaku che è spaventatissimo. Ok, figo. Fighissimo. Allora. Anzi, vede anche un breve scontro. Non credo che sia molto lungo. Però c'è da dire anche che lì dove c'è Zoro c'è anche Lucci. E c'è anche Brook. Ok, quindi potremmo vedere Brook contro Stussi. E magari Lucci se ne va avanti. Oppure, proprio per esagerare, Lucci contro Brook. Sarebbe proprio il top del top. Anche se sarebbe un po' strano. Shaka ho riattivato il Frontier Dome. Ok. Ma gli agenti della CP Zero si sono già infiltrati. Diavolo, siamo troppo tardi. Loro targetteranno la nave dei Mugiwara. Tra l'altro stanno già combattendo il membro che la stava proteggendo. Se non ci muoviamo e non lo aiutiamo, probabilmente potremmo perdere la nostra nave. E ok, quindi Lilith si prepara con la sua arma. E i guys, Luffy, ok. Quindi Luffy sembra di rinunciare i Mugiwara. Comunque i Mugiwara si stanno dirigendo anche loro verso la Sunny. Quindi ok. Dovremmo vedere uno scontro completo contro la CP Zero. Ce ne stiamo già andando, ma eravamo appena arrivati. Forza, non correre troppo. Ok, ma... Non vedete Bonney? Lei è una pirata con i capelli lunghi. Ora che... Ora che l'hai detto dov'è Vegapunk? Quindi... Ah, fermati, fermati Bonney. Siamo tutti di corsa. Ti spiegherò tutto. Basta che mi ascolti, ok? Questa c'è Bonney che insegue Vegapunk, non si sa quale arma, tra l'altro. Puoi far rifronare mio padre normale? Sì o no? No, scusami. Semplicemente non posso. Ma c'è una ragione per questo. Uh, ok. Ok, onesto. Sono curioso di sentire poi la ragione. Però... Ah, qua vedo... Qua vedo dei personaggi... Vabbè, ok. Ok, vabbè. Comunque... Proprio perché vedo questi personaggi, secondo me ne parleremo un'altra volta, perché... Vabbè, da qualche parte nelle acque del nuovo mondo. Wow. Quel pesce è molto più grande del normale. Kid, alzati, siamo vicini alla Terra. Dovremmo guardarci intorno? Davvero lo stai chiedendo? Quando mai non abbiamo esplorato un'isola? Lo so. Ma questa... Quest'isola probabilmente è la casa dei giganti. È il buff. Ragazzi. Questa è una figata, eh. Questa è una figata. Kid cercava l'uomo col marchio del fuoco, che è un uomo che dovrebbe aiutarlo a leggere i ponegriff. Ne abbiamo parlato più volte. Probabilmente quest'uomo è Soul, ok? Un personaggio che sappiamo che è vivo e che era pieno di cicatrici. Quindi... E lui è Dea Delbaf. Quindi Kid ce l'ha fatta. Kid ha quasi trovato l'uomo che sta cercando. Fighissimo. Ok, fighissimo. Cioè, tra l'altro, se Kid dovesse arrivare lì, riuscirebbe quasi a essere alla pari di Luffy. Alla fine, per la corsa al One Piece. Come anche Teach. Tra l'altro qua mi sono spoilerato che c'è Garp, addirittura di sto capitolo. C'è capitolo assurdo, quindi. Allora... Base navale del G14. Sei veramente un combina guai, vice ammiraglio Garp. Siamo qui vicini a Egged. Non possiamo sacrificare nessuno dei nostri uomini. Non essere... Non fare la bambola, non fare la marionetta. Questo non è uno scherzo. Tu vuoi davvero lanciare un'offensiva contro un imperatore? Hai già detto questo ai piani alti? No, perché dovrei. Se sei nella marina da tantissimi decenni e ancora hai questo atteggiamento. Ah, va bene, non ti preoccupare. Tra l'altro sono già qui. El Meppo, vieni qui. È un attacco pirata? Cosa vogliono del Meppo? Quello è vice ammiraglio Garp. Vice ammiraglio Garp? Sì, volevo proprio te. Coby è andato e è stato catturato da barba nera. E non posso fare niente per aiutarlo. Smettila di lamentarti perché sei veramente brutto da vedere. Semplicemente vieni a bordo che stiamo andando ad Acinosu. Bah, ragazzi. Andiamo a sconfiggere quei pirati e salviamo il capitano Coby. Vice ammiraglio Garp. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, top. Questo capitolo è fighissimo, bellissimo. Cioè concludere l'anno così, una magia. Allora, mini avventura non dovrebbe esserci, tra l'altro. Dovrebbe esserci semplicemente una cover di Uta. Da quello che ho letto. Quindi, ok. Ragazzi, pazzesco, eh, sto capitolo. Questo capitolo è pazzesco. Cioè ci apre un sacco di roba. Un sacco di roba. Ah, poi Garp che va ad Acinosu. Cioè voi vi immaginate Garp che incontra Aokiji. In una veste nuova. Perché noi diamo tutti per scondato. Ah no, ma Aokiji sarà sotto copertura. E se non fosse vero. Se veramente Aokiji ha preso quella strada lì. Ok. E si dovesse trovare contro Garp. Sarebbe assurdo. Assurdo. Veramente, comunque, top capitolo. Elbaf. Ma Elbaf. Bellissimo, veramente. Abbiamo un sacco di misteri. In questo capitolo un sacco, un sacco di misteri. E tra l'altro non c'è scritto che c'è la pausa. Non c'è scritto. Ok. Beh, sicuramente il giorno 6, che sarebbe il giorno in cui doveva uscire questo capitolo, non ci sarà niente. Perché ormai avremmo già letto questo capitolo qui. Quindi se questo capitolo, se il prossimo capitolo non è in pausa, dovremmo avere il capitolo già il giorno 13. Se fosse in pausa, lo avremmo il giorno 20, che sarebbe veramente orribile. Secondo me. Ma secondo me non ci dovrebbe essere pausa. Almeno qua non c'è scritta, quindi vedremo. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto questa reaction. Se l'avete vista, l'avete sbloccato grazie al commento del capitolo. Quindi grazie due volte, veramente. Noi ci vediamo l'anno prossimo con queste battute bruttissime. Però veramente ci vediamo l'anno prossimo con un video interessante, secondo me. Un video bello. Proprio bello, bello. Ok? Vabbè, ragazzi, noi ci salutiamo. Mi raccomando, fate i bravi a Capodanno. E niente. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.